come possiamo definirla se non malavita quella che entra a vandalizzare le scuole il vero baluardo di legalità una situazione vergognosa quella della sicurezza scampia sicurezza soprattutto nei pressi scolastici che nell'ultimo periodo sono stati presi di mira da qualcuno che li ripulisce senza essere disturbato è il caso dell'istituto virgilio 4 di scampia dove questa notte hanno rubato praticamente tutto questo quanto racconta il dirigente scolastico battimiello che all'apertura della scuola si è trovato davanti ad una scena veramente drammatica sul posto è giunto immediatamente il presidente della municipalità angelo pisani che constatata la situazione ha dichiarato a napoli nord ora si rischia di chiudere pure le scuole per saccheggio continuato quello che è capitato nuovamente all'istituto virgilio 4 è di una gravità inaudita sono sconcertato nel constatare il dramma che adesso vive il preside battimiello che non sa come mandare avanti la sua scuola che è stata privata di tutto pisani ha poi concluso chi ci va di mezzo sono sempre e soltanto i nostri figli che dopo essere stati avvelenati dalla criminalità adesso qualcuno sta cercando di rubargli anche il futuro secondo furto in pochi giorni nell'istituto comprensivo statale i soliti ignoti entrati attraverso la scala antincendi hanno portato via 17 computer vari strumenti musicali ed altri oggetti già la scorsa settimana la scuola era stata vittima di un ride notturno